Buongiorno a tutti e benvenuti. Quest'anno in un'edizione un po' diversa rispetto alla provincia che orienta, rispetto al Salone dell'Orientamento a cui siamo abituati. L'anno scorso avevamo chiuso con numeri davvero importanti, numeri che avevano superato le 8.400 persone, quasi 8.500 persone che avevano varcato fisicamente le soglie dell'Aula Magna, della nostra università qui a Reggio Emilia, per partecipare al Salone dell'Orientamento. Studenti, famiglie, insieme ovviamente agli istituti scolastici, insieme ai dirigenti, insieme ai professori che come ogni anno si prestano a quello che è probabilmente il capostipite di una campagna di informazione, la campagna di orientamento che la provincia di Reggio Emilia ogni anno è tenuta a fare presso i propri studenti e presso le proprie famiglie per creare quanto più possibile la possibilità di avere una scelta consapevole nella direzione che ognuno di noi, che ognuno di voi studenti potrà prendere nei prossimi giorni, nei prossimi mesi o anche negli anni per chi magari è un pochino più giovane. Le contingenze quest'anno ci costringono, hanno costretto tutti quanti noi a fare delle scelte diverse, a riorganizzarci anche secondo quel principio di resilienza, parola tanta usata negli ultimi mesi ma che forse solo adesso cominciamo davvero a capire che cosa significa e quindi anche la provincia cerca in questo principio di resilienza di fare le cose in maniera diversa, di farle in maniera più sicura, protetta. Stiamo ancora affrontando una situazione difficile, la situazione legata ovviamente alla pandemia e alla situazione difficile di Covid-19 e quindi usiamo tutti i canali a nostra disposizione per essere qui anche quest'anno per l'undicesima volta in questa undicesima edizione con voi per cercare di portare avanti quello che è un percorso importante e fondamentale per voi come persone, per noi come società, come istituzioni e per la comunità in generale che sia scolastica ma che sia tutta la comunità reggiana che si approccia a quella che è una scelta fondamentale che è anche la nostra scelta fondamentale ma è la vostra scelta personale fondamentale per comporre il vostro futuro e anche quello delle nostre comunità. È stata un'estate di grande lavoro, lo è stata per noi istituzioni, lo è stata per i dirigenti scolastici ed è stata un'estate difficile immaginiamo anche per voi, per le contingenze che abbiamo dovuto vivere. Abbiamo cercato di riorganizzare insieme ai vostri dirigenti, i vostri insegnanti, al personale scolastico, agli uffici tutti la miglior scuola possibile per farvi tornare in presenza dopo lo stop di febbraio, dopo il lockdown, dopo le tante sofferenze personali e collettive per farvi appunto tornare in presenza. Dicevamo è stato un lavoro immane e anche gli investimenti sono stati tanti. A settembre siamo riusciti tutti quanti a rivarcare le soglie di quelle aule e questo grazie a quel lavoro di cui parlavo prima, un lavoro fondamentale, un lavoro che ha visto anche tante persone rinunciare ai propri effetti, rinunciare anche ad ore magari che tradizionalmente sarebbero state di ferie per consentire di tornare in presenza. Tanti sono stati gli investimenti, più di 2 milioni 200 mila euro, quelli che come provincia di Reggio Emilia solo quest'estate abbiamo messo in campo per consentire agli istituti superiori di tornare in funzione ma soprattutto agli studenti di tornare alla didattica in presenza ai primi di settembre. Dicevamo 2 milioni 200 mila euro per l'allargamento delle aule, per avere banchi più performanti, non i banchi di cui abbiamo sentito parlare con le rotelle ma banchi veri, banchi ben distanziati, per rivisitare anche gli ingressi e per fare in modo di mettere in campo tutti i dispositivi di sicurezza possibile per fare in modo che gli nostri studenti stessero in sicurezza all'interno di quelle aule. È stato un grande lavoro, è stato un lavoro che ha dato anche i suoi risultati, ovviamente nel tempo, ovviamente accompagnati. Questi investimenti si sommano agli investimenti non soltanto delle contingenze legate a Covid-19 ma ai 30 milioni circa di investimento, 30 milioni di euro che negli ultimi tre anni abbiamo messo in campo anche per le strutture scolastiche. Parliamo di consolidamenti, parliamo di efficientamento energetico, tanti investimenti quindi che vertono sul miglioramento di quelle aule, il miglioramento di quegli spazi, il miglioramento di ciò che voi troverete da qui ai prossimi mesi, da qua al prossimo anno e che speriamo vi accoglierà nel migliore dei modi per la didattica formativa vostra, dei vostri insegnanti e per la soddisfazione anche delle vostre famiglie. Per noi, per la provincia di Reggio Emilia, questo è uno degli asset fondamentali, probabilmente l'asset fondamentale su cui ogni anno continuiamo ad investire anche in un momento difficile nella contingenza delle strutturazioni delle province post-riforma, sono tante le risorse che mettiamo in campo ogni anno in tema scolastico e tante ancora continueremo a metterle, tutte quelle che potremo ogni anno perché per noi la formazione in questo momento e le scuole in particolare rappresentano certamente la priorità numero uno nella gente della provincia di Reggio Emilia. Anche per le contingenze di Covid forse abbiamo capito proprio in questi mesi quanto conta la socialità e quanto conta soprattutto la socialità e i rapporti soprattutto di cui è fatta la scuola. Proprio la privazione forse degli scorsi mesi, la privazione dalle lezioni, la distanza a cui siamo obbligati a rifarci in questi mesi forse ci ha aiutato, ci sta aiutando a renderci ancora più conto di quant'è l'importanza delle scuole, di quant'è l'importanza della formazione, ma sottolineo soprattutto l'importanza dei rapporti, dei rapporti tra voi studenti, dei rapporti con le famiglie, dei rapporti con i dirigenti scolastici e anche l'importanza dei rapporti interistituzionali tra dirigenti, provincia, comuni, scuola, mezzi di trasporto. Solo insieme possiamo fare la differenza, la potevamo fare prima, la possiamo fare ancora di più e dobbiamo farla ancora di più in questo momento di grande difficoltà. Nel salutarvi e nell'augurarvi i migliori auguri di buon lavoro e di buona scelta, sottolineiamo ancora una volta come l'orientamento sia uno degli asset principali in cui ogni anno la provincia di Reggio Emilia investe. Orientamento per noi vuol dire trovare soddisfazione alle vostre aspirazioni, perché ascoltare le vostre aspirazioni, accompagnare le vostre scelte cercando di renderle quanto più informate e consapevoli possibile vuol dire accompagnarvi anche verso un percorso di crescita che è personale, che sarà professionale, che sarà certamente personale vostro ma sarà anche il punto di crescita della nostra comunità e quindi vi salutiamo e vi ringraziamo con un grande in bocca al lupo a voi e alle famiglie che vi accompagnino verso un percorso quanto più consapevole possibile delle vostre scelte future. Grazie a tutti e buona giornata.